Sono temi importanti sempre nella ginnastica artistica e valutare un po' in generale tutti gli aspetti. Adesso è il turno dell'altra rumena Laura Jurka, individualista. Una rata frica, uno Tsukara. Vediamo ancora le situazioni della rumena. Intanto do qualche aggiornamento. Pilar Rubagotti è ancora in testa nella classifica del Corpo Libero Juniors, seguita da Koike Ayu. La rumena Andra Stoica al terzo posto con un 13 tondo. E Emily Gaskin, che ha commesso un grave errore, non è andata oltre l'11.067. E' attualmente al quarto posto. Sì, per adesso ha eseguito le sue due diagonali nel migliore dei modi. Una runata a flick, un doppio salto carpiato con un piccolo salti all'inno in avanti. Intanto per quanto riguarda la parallela simmetrica abbiamo Madison Kochan ancora in testa con il suo 15.033, seguita dalle due astroliane Chiara Monteanu 13.933 e George Rose Brown con 13.767. Intanto ha terminato con un doppio salto raccolto. Il numero di scuola per Andra Stoica, il numero 13.0-0. Il numero di scuola per Andra Stoica del Romania è 13. Grazie.